bella ragazzi bella ciao a tutti eccoci qui oggi con una partita diciamo molto buona molto buona ma la faca molto buona vi avrei promesso tipo un 100 kill con una bella arma per il primo agosto ragazzi però non ho fatto in tempo a farlo perché ogni volta che prendevo una ricompensa me la spaccavano poi ultimamente lo sai anche te non dire stronzate su mv3 quanto ho giocato non dire stronzate di quanto ho giocato su mv3 due ore ecco in quanto una settimana in un'ora che figlio di puttana no no adesso è sempre su mv2 ok fatevi comunque raga oggi vi ho portato un risultato non me lo ricordo se era 88 3 col m4 ma guardate poi alla fine perché non vorrei sparare qualche minchiata che di solito non ne sparo e consueto farmi comunque raga come ricompensa usavo predator reaper e osprey che prenderò tipo due volte ma magari poi sparo un'altra cazzata perché questo gameplay qui l'ho fatto un mese e mezzo fa e non l'ho più visto quindi io mi sto rimedesimando nel gameplay di un mese basta raga oggi sto gameplay qui ve lo piazzo proprio il primo di agosto il primo di agosto perché sarebbe oggi dovrebbe dovrebbe esserci stato tipo un rotto commander mercoledì perché di solito il gameplay ci va lunedì no oggi non è mercoledì ho sbagliato testa di cazzo comunque raga e lo sto andando in confusione è abbastanza lo sto facendo andare in confusione comunque raga io questo gameplay qua e dai però se fai così minchia sta ridendo un po troppo vai mi piazzo questo gameplay perché dovevo fare gli auguri auguri a una persona e faglieli scusa eh calmati tu sai già chi è tanti auguri a te no ragazzi tanti auguri a te dina barza va invece di sparare cazzate no no vai avanti io metto sottofondo dai dai basta dovevo fare gli auguri ragazzi ad anna che per chi non lo sa sarebbe la mia ragazza quindi auguri cucciola auguri auguri non so io non sparo altre cazzate però fategliele anche voi raga che vi stimo vi stimerò per sempre a vita scriveteglielo tipo sotto a vita è proprio a vita sotto i commenti l'ultima roba che pensa quando crepa avete fatto gli auguri oppure anche come messaggio personale sulla play che tanto lascerò il suo nick sotto sotto la descrizione ma ormai lo sanno tutti ma non penso che lo appena tutti per cosa magari certe persone non sanno neanche che gioca la play però vabbè però l'hai detto adesso sì ho capito l'ho detto che glielo devono scrivere anche sulla play no nerd nerd di merda ma se gli tasano la casella e gli fanno andare in crash la play non è colpa mia solo a te te la intasano la casa anche a me anche a me anche a me comunque raga questo video qui dura dieci minuti io mi sono preparato da dire soltanto una cosa per tipo i primi minuti quindi si l'hai già detto appunto era no no quindi seriamente devo dirlo proprio secco cosa auguri anna passa passa una buona giornata e boh non so che cosa dire cioè passa passa un buon primo agosto perché il primo agosto è il primo giorno di agosto giusto non so che cazzo dire insultalo da parte mia se guardi questo video lo devi insultare lo sto menando raga e poi un'altra un'altra bella notiziola che magari vi può far piacere forse mi prendo il premium di battlefield forse 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 che poi magari potrete vedere anche tante belle cose perché come hai detto te vale di più la pena spenderne 50 per il premium di battlefield che per l'elite di no ma l'han detto quasi tutti almeno a parte non voglio insultare ma è proprio i nerdoni di cod che sono qua a smaronarsi tutto al gioco no scherzo ognuno che fa quel cazzo che vuole puoi spiegare un po la differenza tra sti due premium eh tipo nell'elite poi non puoi fare un cazzo e nell'elite in pratica guardi le statistiche come i coglioni entri nei clan puoi entrare nei clan però non ti sbloccano armi però non ti sblocca un cazzo l'unico vantaggio che puoi avere avere le mappe gratis e prima è gratis e prima è gratis praticamente ma scusa praticamente no no gratis le prendi tutte lo stesso si ho capito però le hai pagato 50 euro si infatti non so ancora se ce li ho guadagnati perché se sono sono avranno usciti quattro pacchetti o tre non mi ricordo più 15 30 45 45 euro neanche 5 euro ce li hanno ancora loro i figli di puttani quindi no comunque ragazzi veramente ve lo consiglio il battlefield premium perché vi sbloccano le armi un casino vi sblocca delle modalità delle sfide da fare ma tante armi non poche 10.000 intanto qui mille uccisioni con m4 e no te te magari l'hai già visto io ho già visto dei gameplay di gabbo già visto come gambo di squarito ho visto che l'ha preso come c'è abbastanza bello cioè di certo io io me lo prenderò sicuramente per fare i gameplay per voi non certo per tenerlo per me perché ci giocherò poco però c'è eh va bene va bene zitta zitta ok vai di là vai di là allora qua ripper sto per finire i colpi vabbè adesso non c'entra un cazzo era per cambiare discorso perché è arrivato un bufalo in casa basta comunque altra bella novità ah sì abbiamo visto che vi è piaciuto la mini clip che ho messo a fine video del del motard del super t è morto che è scarburato raga quindi non non dite non non tirare le marce non va un cazzo lo so è scarburato non va un casino aspettate un attimo lo carbure poi naturalmente vi anticipo solo una cosa che nel real life vabbè uno ha voluto farlo spiritoso a scrivere tipo ma nel real life toglierete pure il casco già mi veniva voglia di insultarlo sinceramente però cioè io io ho detto che questa qua era tipo una mini cose che potete trovare nel real life ma figa ragazzi non vi posso far vedere la faccia se non è un real life pensateci un attimo cioè magari questa cosa qui la potete trovare tipo alla fine del real life quando diremo senza casco iscrivetevi commentate dopo facciamo lo sparo tipo una cosa così no ci starebbe ti potete prendi un vantaggio di 100 metri poi parto anch'io ebbe ma tanto mi mangi comunque tanto qua un altro bel predator avete visto che la m4 massacra ugualmente un'altra un'altra bella cosa che te la sai già che forse raga mi prendo la power line forse ah vabbè ma non costa un cazzo non costa un cazzo però lo consiglio per chi non è connessionato come su 7 mega viene piglia due o tre no è un colpo di tutto perché praticamente se anche se il modem non lo so viene piglia al massimo anche se avete attaccato il cavo viene piglia 4 di media con la power line non so come caso è possibile però riesce a prendere tutta la potenza del modem e se attaccate il cavo ve lo trasferisce sulla play quindi riuscirete a giocare senza lag se il server non fa schifo quindi e anche per caricare i video visto che se prendete la power line su amazon ve ne danno due quindi una attaccata la play l'altra attaccata al computer a due si 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 vi aumentano l'upload e riuscirete a caricare più velocemente si si a caricare a poi un'altra cosa raga questo video qui degli auguri che ho fatto prima prima ecco lo troverete anche non non uguale troverete anche credo un dual gameplay sul canale di gamersharp che praticamente vi spiego lui mi farà delle domande tipo su come ci siamo conosciuti così che così è lui no io e lei il gamersharp mi fa delle domande non ho capito vabbè a te non capisci mai un cazzo comunque non vi anticipo altro vi fa delle domande così e lo troverete anche sul suo canale bravo bravo guarda intanto qua dopo il vita vabbè che cazzo vuole lo sa solo lui quindi altro come io sto solo sto solo guardando il massacro con l'osprey guarda 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 ora ora le fide a sinistra non dico più un cazzo non dico più un cazzo vuoi dire tipo qualche aggiornamento che ti è successo durano oggi non solo oggi tipo in un mese è in un mese che non stai dicendo più un cazzo di quello che fai che cos'è che ho fatto hai preso la ventimega dillo è proprio manco c'è manco posso metterla io la ventimega scusa non è vero premontarlo no 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 poco è un paese di diecimila persone non può mettere niente basta sei riuscito più o meno a contare quanto è chi l'ho fatto visto che non lo so non lo sai verrà fuori la fine ah una cosa che mi è venuta in mente adesso ringrazio gli iscritti grazie ti stanno salendo come i cinesi come i cinesi proprio come i funghi glielo ho detto anche i quant'è che te l'avevo detto ieri sera ieri sera quando sono venuto da te in moto che ho preso non dirla lavata perché no no un po' di freddo dopo sì dopo sì altra che parla e beh si fai ai 160 non è qualcosa di cazzo comunque ma sì diciamo che sta per finire anche se manca 30 secondi perché naturalmente ragazzi le mie partite di uccisione confermata invece che durare cinque minuti durano durano finché non scade il tempo qua non dico un cazzo è meglio però chi li molto di più qua non dico un cazzo tanto qua mi stava per kill ah no stavo per dire questa non me la ricordavo questa non me la ricordavo sinceramente adesso mi ammazzo adesso no raga non lasciate commenti ho già detto che commenti dovete dire all'inizio del video fatelo perché mi fate veramente un piacere sia a me che a lei cioè è vero partita finita iscrivetevi commentate fateli gli auguri commentate e commentate lasciate un mi piace iscrivetevi alla pagina di facebook e ne avete un po di cose da fare raga mezz'ora ci mettete alla prossima bella bella ciao 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 ciao